Io credo di quello musicale con il quale abbiamo cominciato questa serata, anzi se ci fossero state anche le parole saremmo già entrati in argomento. Lo dico senza celia, ora non voglio entrare nel merito di quei testi famosissimi, però in certo senso la successione non era propriamente cronologica, ma non importa. Nel senso che la marsigliese viene prima e la parola patria campeggia nella marsigliese, stante che come stamane la professoressa Rao ha spiegato, l'elemento patriottico, chi difende la rivoluzione è un patriota, domina nell'universo mentale della rivoluzione francese. Nel caso dell'inno del giovanissimo Mameli, combattente nella Repubblica Romana, c'è quel verso un po' curioso della vittoria che è schiava di Roma, terribile come verso in realtà, dal punto di vista estetico beninteso, e dal punto di vista concettuale un po' imbarazzante. Comunque anche lì Roma simboleggia non tutta l'orbe romana che era grandissima, ma l'auspicata unificazione d'Italia. E poi il terzo testo, il cui ritornello è stato più volte ripreso, non parla più di patria, ma dice che l'internazionale, cioè l'unione di tutti i popoli, e la futura umanità. Quindi parole straordinariamente nobili e di orizzonte vasto e impegnativo. Così siamo entrati nel nostro argomento, perché fra l'altro proprio di questo cercherò di parlare. Ma il titolo che è stato ricordato è un titolo legato alla contingenza, perché è fuori di dubbio che la scelta del tema rivoluzioni era legata alla curiosa ricorrenza di date, abbiamo concepito, potremmo dire, nel 2017, e quindi l'anno che è stato ampiamente occupato dalle riflessioni, commemorazioni, deprecazioni della rivoluzione russa. Però poi i lavori si svolgevano nel 2018, anno non meno ricco di ricorrenze tonde. Io perciò le ho indicate un po' sommariamente partendo dal bicentenario della nascita di Marx. 1818 nasce quest'uomo e noi siamo due secoli dopo. Non era merito suo nascere, questo è chiaro. Però la volta che è nato si è dato da fare, ha fatto più di una cosa, lasciando traccia di sé. La data successiva è il 1848, che è legatissima al personaggio che ho appena nominato. e ho indicato il 18, 1918, perché è l'anno nel quale gli effetti, potremmo dire, internazionali della rivoluzione accaduta l'anno prima, in Russia si sprigionano. e non per assecondare le mode, ma perché ha un suo senso, ho voluto porre alla fine di questa lista di date, una un po' più vicina a noi altri, di cui quest'anno penso molto si parlerà, suppongo, con toni vari, non sempre esaltanti, ma credo, spero, con serietà di riflessione storica, perché quell'anno, non soltanto nel nostro Paese, anzi noi siamo arrivati un pochino in ritardo, ma in tantissima parte del mondo occidentale è stato un anno epocale, un anno che ha lasciato traccia in moltissimi ambiti. Ma ripercorro questo profilo, questa traccia apparentemente esteriore, di date che si richiamano l'un l'altra, perché è doveroso porsi la domanda, forse pleonastica, chi è il personaggio a partire dal quale questa sera rifletteremo sui destini del fenomeno rivoluzionario. Tra pochi giorni apparirà un libretto, un piccolo libro curato dalla redazione del Corriere della Sera per l'appunto su Marx con un sottotitolo un po' brutale Vivo o Morto, ma giornalisticamente può andare come sottotitolo. E la risposta non è facilissima perché si tratta di una figura che ha segnato la nostra storia, direi la storia mondiale, dividendo, creando al tempo stesso entusiasmo e rifiuto e quindi non è inutile qualche parola su di lui. Potrei cavarmela con una definizione di Benedetto Croce in suo scritto polemico del primissimo dopoguerra del 43-44 poco dopo il 25 luglio in cui diceva un dottore prussiano in filosofia. Definizione impeccabile perché Karl Marx quasi coetaneo di Momsen, grande storico di Roma si laurea, si addottora in filosofia con una dissertazione sul pensiero atomistico democrito epicuro. E questa dissertazione è piena di cultura greca, di testi greci, la formazione degli uomini nati in quell'anno era una formazione classicistica, latino, le tre lingue che si studiavano nel ginnasio umanistico erano il latino, il greco e l'ebraico. Poi dopo la rivoluzione del 48 l'ebraico considerato più difficile fu accantonato. Sposa una nobildonna prussiana Jenny von Westphalen che lascia in certo senso il suo ambiente e segue quest'uomo che fa come mestiere il giornalista liberale, liberale avanzato, poi liberale è una parola che si adopera da ultimo in modi molto riduttivi ma è una parola diversiva nel sillabo è uno dei primi obiettivi il liberalismo quindi bisogna considerarlo nella sua dinamica tutt'altro che rassicurante e incorre nella censura immediatamente del regno di Prussia pubblica la gazzetta renana Reinisce Zeitung che viene subito censurata e però il grande momento in cui il suo impegno esplode in forme che oggi noi riteniamo pervasive che tali non furono sul momento è il 48 il 1848 ma in realtà era già stato costretto a lasciare la Prussia prima Parigi annali franco-tedeschi poi il Belgio poi Londra insomma nel sistema politico costruito dal Congresso di Vienna consolidato dalla Santa Alleanza vitale per un certo tempo nonostante la grande convulsione determinata dalla monarchia di Luglio in Francia la censura è uno degli strumenti costanti per impedire che il filo avviatosi con la rivoluzione francese venisse ripreso c'è un legame c'è un nesso sì spesso le periodizzazioni hanno un grande difetto cioè quello di tagliare di netto fenomeni che invece sono fondati su una profonda continuità però questo momento questa ripresa che ha come epicentro la Francia merita attenzione se parliamo del 1848 anche per la ripresa del linguaggio della terminologia nel febbraio del 1848 la rivoluzione a Parigi caccia dal trono Luigi Filippo la cui ascesa aveva aperto grandi speranze con lui molti uomini che erano stati intorno a Bonaparte sono tornati sulla scena ma ben presto si rivela l'anima conservatrice il re dei banchieri i banchieri da ultimo sono molto rispettati allora invece la parola era usata con giusta polemica e se abbiamo memoria di un libro fondamentale come il gigantesco omerico romanzo di Hugo Les Miserables lì c'è una cronaca della rivolta parigina del 1832 del giugno 1832 cioè a ridosso quasi dell'ascesa al trono di Luigi Filippo a significare quanto deludente fosse stato quel momento inizialmente apparso come di ripristino di un cammino che la restaurazione e la fine di buona parte avevano interrotto febbraio 48 tornano gli uomini a definirsi coi termini che erano stati della rivoluzione francese c'è la montagna dentro l'assemblea nazionale la montagna è un termine inerente come si è detto stamane alla dinamica parlamentare della convenzione nazionale quindi appare tra i deputati un personaggio che ha un lungo futuro davanti a sé il principe Luigi Bonaparte il quale è stato anche in carcere ha scritto molto ha scritto dei saggi in cui propone la soluzione del problema sociale Luigi Bonaparte poi Napoleone terzo in realtà presidente principe presidente con un gigantesco successo elettorale e figura su cui pesa una retorica negativa comprensibile Napoleone il piccolo no il pamphlet di Hugo contro di lui in Italia ha avuto poi una sorte negativa sul piano dell'apprezzamento perché tutti ricordano se come spero a scuola si continua a parlarne la vicenda della conclusione ex abrupto di quella che noi chiamiamo così provincialmente la seconda guerra d'indipendenza che in realtà è la guerra fra la Francia e l'Austria-Ungheria in cui si inserisce il regno di Piemonte e che la Francia interrompe nel momento in cui decide di interromperlo per una sua politica militare e diplomatica che per il conte di Cavour fu una pugnalata micidiale ma che comunque aveva dal punto di vista dell'impero francese un senso ma ho parlato di lui per la figura rilevante che intanto è imperatore dei francesi per molto più tempo del suo grande congiunto se vogliamo quasi un ventennio fino alla sconfitta di Sedan e soprattutto è interessante il fatto che ho appena ricordato poco anzi della sua capacità di proporsi come colui che risolve il problema sociale la pubblicistica sua in merito è molto interessante ma poco conosciuta con una ricetta diversa dal liberalismo e dal socialismo il momento significativo di questa carriera di quest'uomo è il triennio fra il 48 il febbraio 48 e il dicembre del 51 in quel breve torno di tempo avvengono si producono eventi decisivi il più drammatico dei quali è la seconda rivoluzione parigina del giugno 41 scusate 48 che è una rivoluzione socialista la repressione di questa rivoluzione socialista parigina del giugno 48 è affidata e nelle mani di un personaggio diventato simbolo negativo Caveniac generale Caveniac in Francia più di una volta si è sparato sui rivoluzionari e come dire senza risparmio i morti del giugno 48 furono 3.000 sul selciato e 15.000 mandati nelle galere o addirittura lontano nelle colonie e poi dopo la comune i fucilati i 40.000 fucilati insomma come si suol dire si diceva una volta con un linguaggio semplice ma molto chiaro la borghesia si sa difendere non lesina strumenti giugno del 48 ma chi è Caveniac è il figlio del regicino Caveniac suo padre era deputato nella convenzione nazionale quindi gli eletti del settembre 1792 che nel gennaio del 93 hanno il problema di decidere se processare il re Luigi 1916 e poi eventualmente condannarlo o direttamente condannarlo e siccome l'accusa è pesantissima è quella di alto tradimento per avere egli sollecitato l'intervento di potenze straniere contro la Francia il famoso proclama di Brunswick la maggioranza dei deputati alla convenzione espresse la parola l'amor cioè condanna a morte senza processo tutti i deputati della convenzione furono chiamati i regicidi uno dei quali fu il pittore che abbiamo visto stamane David il quale in quanto anche egli disse quelle parole l'amor non potè più rientrare in Francia morto in Belgio perché ai regicidi non fu mai concesso dopo il 15 di poter rientrare e l'elenco dei regicidi che era anche additarli ad un destino non lieto circolò sotto forma di opuscolo opuscolo analogo fu quello non meno minaccioso intitolato lista dei giacobini viventi lista dei giacobini vivants come dire viventi ma eventualmente si può sfoltire ecco il Cavagnac figlio guida le truppe che massacrano la rivolta del giugno 48 che segna come sempre succede in questi casi un arretramento complessivo per cui dovendosi provvedere tempi relativamente brevi a forme di elezione il paradosso è che l'assemblea nazionale dominata presieduta da personaggi che si richiamavano alla Gironda la Martin che è autore di una storia dei Girondini fra l'altro quindi vedete la montagna e la Gironda che ritornano nel 48 parigino per timore di risultati spiacevoli questo è un vecchio vizio dei ceti politici riducono il suffraggio non più universale peraltro era soltanto un suffraggio universale maschile chi ripristina il suffraggio universale maschile è Luigi Bonaparte e nelle elezioni alla presidenza ottiene un successo strepitoso milioni e milioni di voti contro Cavagnac che invece ha un pugno di voti e risulta sconfitto è quasi un plebiscito ed è l'avvio per la scelta ricalcata su quella del grande congiunto di ripristinare la forma politica dell'impero secondo impero Marx è stato potremmo dire ai margini di tutta questa vicenda anche se nella storia sacra diciamo della pubblicistica ispirata al socialismo gli si dà un ruolo eccessivo in quella circostanza sto parlando del manifesto dei comunisti scritto da lui anzi direi senz'altro da lui anche se gli autori appaiono due lui e Friedrich Engels c'è un bellissimo saggio di Hobsbaw sul manifesto in cui nota che si tratta di un testo letterariamente efficacissimo anche per le formule brevi enfatiche i casti che pullulano in quei quattro capitoli uno dei quali il terzo in realtà è quasi un fuor d'opera perché è una sorta di rassegna degli altri socialismi socialismo riformista socialismo medievale socialismo cristianeggiante quindi c'è quel capitolo che poi Marx si ripubblicò come saggio a parte il vero e proprio manifesto se vogliamo sono i capitoli uno, due e quattro che sono testo di battaglia questo esce a Londra potremmo dire a cose fatte nel senso che nel frattempo la rivoluzione di febbraio c'è già stata e gli ispiratori sono i socialisti francesi Louis Blanc lo stesso Blanchy l'enfermé non solo ma perché viene scritto quello puscolo pubblicato in non molte copie in una pessima stampa quasi illegibile perché nel frattempo tanti altri manifestos come venivano chiamati vengono pubblicati da altre forze i cartisti inglesi soprattutto e l'opera appare appunto a Londra i quali imboccano per così dire una strada loro propria che non è quella rivoluzionaria ma colgono il clima del 48 e sollevano problemi sostanziali nei rapporti di classe in Inghilterra e c'è un nostro studioso che è scomparso da vari anni che ho ammirato molto per la sua intelligenza parlo di Salvo Mastellone peraltro riscopritore del Mazzini inglese cioè del Mazzini che scrive in lingua inglese da esule e quindi finalmente molto comprensibile molto chiaro molto efficace forse più che nella sua lingua madre che manovrava in maniera eccessivamente complessa artefatta retorica e Mastellone ha dedicato anni di ricerche a tutti gli altri manifesti la rivista Northern Star la stella del nord che era un po' l'organo dei cartisti è in prima fila in questo rilancio delle istanze rivoluzionari e c'è una lettera di Engels a Marx che dice ma è noi perché loro rappresentavano la Lega dei Comunisti che era un'organizzazione tedesca ma erano stati cacciati erano illegali era fuori legge e nasce così l'idea del manifesto che ha avuto scarsissima circolazione nei primi anni dopo che è stato redatto e stampato e non faccio ora la storia che pur sarebbe molto interessante si conoscono le tirature quante copie eccetera ma c'è invece un episodio significativo che ci porta un po' più in là nel tempo e cioè come credo sia ben noto 1864 viene fondata l'associazione internazionale dei lavoratori cioè la cosiddetta prima internazionale che vive in maniera molto tormentosa divisa al proprio interno anche Mazzini a un certo punto è sfiorato ma poi si ritrae conflitto Bakunin quindi gli anarchici Marx a un certo punto si trapianta in America poi si scioglie 1864 ha una vita appunto molto ostentata che circa 12 anni ma nel 66 1866 nel regno di Prussia non ancora imperio di Germania lo sarà dopo la vittoria di Sedan il cancelliere Bismarck anche egli buon classicista studioso delle lingue antiche lancia le leggi antisocialiste Bismarck peraltro aveva liquidato la rivoluzione tedesca del 48 con l'assalto diciamo diretto all'assemblea di Francoforte che ha sempre suscitato un po' l'ironia di Marx il fatto che questi professori fra cui Teodoro Momsen liberale anche egli disquisivano sulla costituzione migliore per la Prussia e vengono sbaraccati mano militari da Bismarck ma Bismarck però era anche uomo saggio e diceva tutto si può fare con le baionette tranne che sederci si sopra quindi sapeva il fatto suo Bismarck è convinto che il socialismo sia un pericolo serio e in certo senso aveva ragione che la soluzione adottata in Francia quella cesaristica poteva essere una soluzione del problema la parola cesarismo fra l'altro come sappiamo nasce proprio in quel torno di tempo e se prendiamo i grandi lessici l'itre eccetera vediamo che la definizione che viene data tra i prime quella di Romier è sistema di potere mirante affermare il pericolo rosso quindi il cesarismo viene visto come l'argine Bismarck lancia le leggi antisocialiste con le quali ritiene di poter disperdere l'organizzazione che comunque si sta formando nonostante il clima ostile e addirittura nel 71 inizio 72 vengono processati i capi del partito socialista tedesco il vecchio Liebknecht Wilhelm Liebknecht e August Bebel che allora era un giovane autore al quale dobbiamo sempre essere grati per quel libro Il socialismo e la donna è uno dei primissimi che ha posto con forza un problema che gli altri anche socialisti non vedevano il socialismo e la donna vengono processati e il corpo del reato per accusarli di crimini contro la sicurezza dello Stato è il manifesto dei comunisti il manifesto di Marx e di Engels nel quale si parla dell'imminente rivoluzione in Germania e che dunque è un testo che può servire come capo d'accusa essi poi vengono anche condannati ma il partito socialista tedesco ha un'iniziativa geniale siccome questo testo del manifesto di Marx di Engels è incorporato negli atti del processo pubblicano gli atti del processo e quindi pubblicano il manifesto che circola in tantissime copie perché loro diffondono gli atti di un processo che li aveva visti bersagliati e vittime e in certo senso possiamo dire comincia o ricomincia allora una qualche fortuna di quel libro libro che ora non leggeremo perché davvero non abbiamo tantissimo tempo davanti ma che va ricordato non soltanto per le intuizioni straordinarie compresa quella oserei dire con un linguaggio un po' corrivo della globalizzazione nel senso che il capitolo forse più importante il secondo Marx descrive la forza straordinaria di unificazione del pianeta che è nel capitalismo che egli descrive come uno stregone che ha suscitato forze immense che non riesce a dominare ma nel mentre che dice questo descrive anche con straordinaria efficacia potrei dire da grande scrittore da grande letterato come il capitalismo ha ammodernato il pianeta da un capo all'altro distruggendo tutte le forme di ancien regime in tutti i campi ma quello che conta accanto a queste intuizioni durevolissime il Wall Street Journal poco dopo la fine dell'Unione Sovietica raccomandava la lettura di Marx forse non ha torto ed è un giornale certamente non sospettabile di inclinazioni comunistiche c'è poi la parte empirica la parte concreta in cui si indicano gli obiettivi immediati quello che va fatto subito il primo dei quali è la conquista della democrazia cioè il suffraggio universale e poi l'acquisizione allo Stato del potere bancario ci sono quindi in questo testo indicazioni operative che non hanno uno sguardo utopico hanno uno sguardo sull'azione politica imminente e l'ultimo breve capitolo addirittura descrive quali sono quali debbono essere o possono essere i rapporti dei vari nuclei socialistici in Europa con gli altri partiti dall'Ungheria alla Polonia all'Italia alla Francia eccetera ma la vera fortuna di questo libro che non ebbe poi il peso che ha avuto dopo la rivoluzione sovietica si può misurare da un dato che voglio qui ricordare nel partito socialista tedesco maestro di tutti i socialismi potremmo dire maestro anche per la sua capacità di insediamento sociale di costruire scuole di formazione in cui anche la allora giovanissima Rosa Luxemburg insegnava l'insediamento attraverso l'organizzazione sindacale la capacità di conquistare consenso di approdare in Parlamento era un partito tuttora in discreta salute oserei dire in cui però vi era una distinzione nettissima tra i teorici più importante dei quali era Carl Kautsky direttore della Neue Zeit e i politici veri e propri i quali non avevano l'obbligo di conoscere i testi manifesto sì perché è breve ma insomma il Capitale libro molto difficile il cui primo volume è uscito in vita di Marx stesso nel 67 invece è dopo il 17 dopo la rivoluzione d'ottobre che si identificano le due figure il dirigente politico e il teorico anzi è un obbligo che il dirigente politico sia anche un teorico e quindi i testi fondativi sono indispensabili la conoscenza deve essere di tutti i militanti e quindi milioni di copie la grande fortuna editoriale del manifesto è esattamente 1917 e seguenti ora ho detto prima uno degli obiettivi immediati che sono indicati nel manifesto è la conquista della democrazia cioè il suffragio universale perché potrebbe sembrare una domanda sciocca ma il sottinteso qual è che il suffragio universale è il veicolo naturale per il successo delle forze che si richiamano al socialismo l'esperienza francese del 48 e seguenti in realtà era stata alquanto deludente Marx ha scritto su quelle vicende il 18 brumaio di Luigi Bonaparte le lotte di classe in Francia in uno di questi saggi nel secondo in particolare lui si rende conto del fatto che la battaglia sarà molto più lunga ed è lì che c'è quella frase celebre ben scavato vecchia talpa che vuol dire ora sì Luigi Bonaparte farà a lungo il suo mestiere di come diremmo noi populista sì la parola è antipatica è usata come una clava però allude a questo alla capacità di un potere sostanzialmente mirante alla conservazione di andare incontro a richieste esigenze di tipo sociale e in questa battuta ben scavata vecchia talpa Marx si augura che attraverso una lunga azione magari sotterranea durante l'egemonia che il regime bonapartista ha instaurato la rivoluzione rispunti fuori quindi c'è già un'idea di un tempo lungo ma nel manifesto c'è l'idea più ingenua che il suffragio universale è lo strumento il conflitto all'interno della prima internazionale cioè dell'associazione internazionale dei lavoratori che ho prima ricordato con gli anarchici Bakunin era proprio su questo punto gli anarchici erano convinti che lo strumento elettorale fosse assolutamente inutile impraticabile e comunque perdente mentre l'organizzazione dei vari partiti che si formavano ispirati alla social democrazia ritenevano che il veicolo elettorale fosse la strada principale da seguire le fortune del partito socialista tedesco parvero dare ragione a questa ipotesi nel 1889 una data che non abbiamo inserito per non esagerare nel nostro titolo nasce da capo l'internazionale dei lavoratori quella che chiamiamo la seconda dando il titolo di prima all'altra anno non trascurabile non è un anno scelto a caso perché il 1889 visto che parliamo di anniversari ce lo possiamo concedere è il centenario della rivoluzione francese che però non è una tappa qualunque è l'anno in cui finalmente la rivoluzione francese diventa materia alla Sorbonne la cattedra di storia della rivoluzione francese Olar è il primo che la ricopre d'antonista ma è stato un cammino lungo a posteriori sembra ovvio ma non lo era per nulla i destini potremmo dire storiografici della rivoluzione francese sono un bel tema a parte che meriterebbe una trattazione che non faremo ricorderemo soltanto anche per questo la musica abbiamo sentito all'inizio è pertinente che un'acuta intelligenza italiana quella di Alessandro Manzoni ha dedicato energie non da poco ad un saggio che è rimasto incompiuto l'ultima cosa che lui stava scrivendo sotto l'influsso di un grande amico suo che era Antonio Rosmini saggio comparativo tra la rivoluzione italiana e la rivoluzione francese nella sua idea la rivoluzione italiana è il processo di unificazione nazionale e quindi era un bene che avessimo l'inno di Mameli all'inizio perché una delle visioni molto discutibile che si può avere del nostro risorgimento è che sia stata la rivoluzione italiana e per il Manzoni ormai vecchio e molto critico verso se stesso degli anni ruggenti e Giacobini quella è la vera rivoluzione quella francese è un mostro di sopraffazioni a partire dagli stati generali la cui convocazione fu un dono del re ma la cui ribellione e autoproclamazione come assemblea nazionale costituente era il primo dei soprusi che hanno segnato una serie di altri soprusi ora nel percorrere queste vicende direi che la linea chiamiamola gradualistica per merito della socialdemocrazia tedesca sembra egemonica sembra quella vincente c'è uno scritto di Engels quando Marx ormai è morto da anni di Engels vecchissimo 1895 molto interessante per la circostanza è una prefazione potremmo dire a un vecchio libro di Marx quello sulle lotte di classe in Francia che era uscito nel 50 nel 95 sono passati 45 anni questo scritto è destinato alla rivista di Kautsky Neue Zeit il quale Kautsky gli censura una serie di periodi quindi l'edizione critica di quello scritto è molto interessante perché il giovane potremmo dire Kautsky rispetto a questo grande vecchio che simboleggiava il socialismo proprio nella sua stessa persona la disinvoltura con cui Kautsky lo censura ci colpisce è un po' sintomatica di quel fenomeno che ho prima ricordato ma perché è interessante questo scritto di Engels ormai vecchissimo perché afferma con forza che ce la faremo per via elettorale lui dice se ci sarà violenza la violenza sarà da parte di chi dinanzi al successo crescente del socialismo attraverso la scheda elettorale ricorrerà alla forza e allora saranno loro che violeranno la legalità c'è una sua riflessione subito dopo siamo già un quarto dell'elettorato il che vuol dire scrive ancora Engels non in quella prefazione ma in un altro suo scritto che anche un quarto dell'esercito è nostro perché la proporzione numerica è quella e quando saremo il terzo e la metà il socialismo sarà nelle cose perché avremo conquistato anche l'armata prussiana ecco questo è il quadro del secolo finiente l'ottocento finiente dopo del quale c'è la tragedia alla quale Engels non poteva certo avvicinarsi con la fantasia ma che poco dopo diventava invece un pericolo vero e cioè l'aveva previsto in certo senso come dicevo la violenza verrà dagli altri perché la Germania ormai Guglielmina Bismarck è stato congedato Guglielmo II vuole fare l'imperatore sul serio protesa a contendere all'Inghilterra il dominio dei mari una gara imperialistica che è alla base della prima guerra mondiale la creazione di strutture politiche parapartitiche miranti a garantire la conservazione comunque quale che sia il risultato elettorale è in certo senso l'antefatto del disastro del 14 allorché la seconda internazionale defunge per essere stata incapace di impedire il conflitto e soprattutto responsabile di aver portato i singoli partiti al socialpatriotismo cioè a sostenere i rispettivi governi in guerra per cui operai tedeschi sparano su operai francesi e viceversa e l'internazionale non c'è più ed è allora che le minoranze socialiste riprendono quel filo di riflessione che Engels aveva lasciato la violenza verrà da loro e sono le premesse per quel che succede nel corso della guerra non soltanto in Russia ma anche in Germania e poi in altre parti d'Europa a questo punto si imporrebbe la domanda era inevitabile noi sappiamo che uno storico indubbiamente acuto talvolta deludente non so se si può dire questo di François Furet si è via via nel corso della sua riflessione continua sul tema rivoluzione francese accostato alla domanda ma era veramente inevitabile la domanda è stata ripetuta anche per la rivoluzione russa io sono sempre un po' come dire a disagio quando gli storici pongono la domanda se un fatto storico fosse inevitabile vuol dire che non hanno studiato sufficienza secondo me potremmo dire che invece da altri ambiti della conoscenza storica vengono fasci di luce per capire la rivoluzione russa è un fenomeno gigantesco dire che un Stato è un colpo di Stato come si usa a dire da ultimo è un segno un po' di incultura la sua vera ragione diciamo e la sua dinamica è proprio nel fatto che il potere zarista ha messo le armi nelle mani dei contadini trasformandoli in soldati la figura del contadino soldato che non vuole più combattere si rivolge contro i suoi ufficiali la capì benissimo un grande storico dell'impero romano che si chiamava Rostovcev il quale studiando il terzo secolo la crisi del terzo secolo dell'impero romano disse ma è quello che sta succedendo da noi il che lo inorridiva e se ne andò scappò già nel 18 capì però la sostanza della questione cioè il suo movimento sociale profondissimo causato dalla guerra e dal fatto che il contadino che era stato liberato dalla servitù 40 anni prima la Russia ha avuto la servitù della gleba fino a 800 inoltrato ha avuto le armi e ha potuto decidere che questa guerra pazzesca non era la sua guerra e il terreno di cultura della vittoria bolshevica dell'ottobre novembre del 17 che però ripropone per intero i problemi che ci siamo trascinati dall'inizio e che ora vorrei riassumere brevissimamente sotto una didascalia chiamiamola così rivoluzione versus maggioranza in certo senso abbiamo già assaggiato questo problema però ripercorriamolo velocemente stamattina si è parlato i giovanissimi presenti si sono nutriti della relazione sulla rivoluzione francese una cui caratteristica nel momento in cui si radicalizza è la dittatura di minoranza che è una dittatura di minoranza in quanto Parigi contro il resto della Francia contro la Vandea e contro i federalisti nel sud ma anche all'interno della capitale quindi la realizzazione estrema del principio rivoluzione non vuol dire necessariamente governo della maggioranza la cosa non è legata soltanto al governo breve peraltro di Robespierre se si pensa che quando dalla convenzione termidoriana ormai si passa al consiglio dei 500 questo dovremmo consigliarlo ai nostri stregoni della politica è assicurato che due terzi dei convenzionali debbono entrare nel consiglio dei 500 con o senza vitalizi questo non sappiamo consapevolezza di non essere maggioranza ma analoga è la situazione del giugno 48 io ho prima ricordato quel libro importante che non è solo un romanzo è molto di più di Hugo c'è un tema che io credo andrebbe affrontato cioè Manzoni Hugo Tolstoi Manzoni è il primo in ordine di tempo homo unius libri nel senso che si è concentrato su quel libro in maniera quasi maniacale facendone un libro durevolissimo la storia dentro la narrativa pezzi di storia dentro il romanzo esperimento notevolissimo Hugo lo fa in maniera ancora più straripante interi libri all'interno del romanzo sulla battaglia di Waterloo descritta passo passo sulla rivolta parigina del 32 a quel proposito lui ha una riflessione fulminante il giugno 48 lui dice cioè la rivolta socialista di Parigi fu la rivolta contro il suffraggio universale c'è questa frase nel romanzo Hugo era stato deputato nel 48 monarchico e sua madre era bigottissima il padre Giacobino fervente poteva nascere uno spostato invece è nato uno che ha incominciato la sua carriera come cattolico fervente il vescovo Miriel che campeggia all'inizio del romanzo è un personaggio in carne ed ossa esistente di cui lui era appassionatamente invaguito ma poi nel corso dei lavori passa da un'altra parte è ostile al giugno 48 da vecchio difenderà i comunardi superstiti delle fucilazioni volute dalla terza repubblica francese ma quel che qui ci preme è rivolta contro il suffragio universale ma i bolcevichi al potere fanno la stessa cosa Lenin appena è al potere constata che le elezioni per la costituente mettono i bolcevichi in minoranza scioglie la costituente e instaura quindi la medesima dittatura diciamo di minoranza che fu giacobini che sarebbe stata dei socialisti parigini se non fossero stati fucilati da Cavaignac quindi il problema che Engels si illudeva si risolvesse pian pianino arrivando a diventare maggioritari e il problema delle rivoluzioni il rapporto con la maggioranza l'altro aspetto della questione e su questo vorrei concludere è la demonizzazione tutte le rivoluzioni vengono demonizzate si concludono apparentemente con un insuccesso apparentemente di tutta la pubblicistica successiva al 1815 o ha fatto qualche minimo cenno ma sarebbe molto lungo addentrarsi ricordo soltanto che nella cultura nostra italiana quando Carducci decenni e decenni dopo scrive il Saira si è studiato ben bene Michelet e lo trasforma in Sonetti viene denunciato sulla stampa italiana come terrorista non nel senso che sparasse di qua e di là ma cultore apologeta del terrore questo per dire quanto è stato faticoso recuperare una visione equilibrata di quegli avvenimenti la demonizzazione ma potremmo proseguire la demonizzazione della rivoluzione bolshevica direi che è una ginnastica coeva alla rivoluzione stessa non si è mai interrotta e quando nel 91 la struttura statale sorta a suo tempo è crollata qualcuno ha inneggiato alla fine della storia e sono nati i libri neri la storia dei libri neri è molto interessante e indica il nesso fra le varie rivoluzioni sul quale io insisto subito dopo venne fuori il libro nero del comunismo di un signore che si chiamava Courtois ha avuto molta fortuna in Italia anche abbastanza in Francia direi ma da noi di più anche perché l'allora presidente del consiglio poi scaduto dal cavalierato ma comunque sempre editore Mondadori lo tradusse e lo diffuse e lo regalò ai congressisti del suo cosiddetto partito che poi partito ancora non era quindi una fortuna enorme libro nero ma subito dopo fu pubblicato il libro nero del capitalismo e al quanto tempo dopo il libro nero dell'impero inglese nel 2006 esce il libro nero della rivoluzione francese ma non edito da un minuscolo editore ma diciamo da un editore importante cattolico l'édition du serf e allora se nel 2006 un editore così connotato nella cultura francese lancia il libro nero della rivoluzione francese vuol dire che il problema è ancora aperto vuol dire che noi viviamo dentro quella problematica si potrebbe dire come è stato scritto che in quei 25 anni tra il 1789 e il 15 sono avvenute una serie di rivoluzioni non una sola anticipatrici di quello che avveniva decenni dopo gli enragè i poveri enragè di cui stamattina si è fatto cenno che volevano una giustizia sociale brutalmente egualitaria immediata e sono stati liquidati da Robespierre erano andati molto avanti e perciò sono caduti ma hanno anticipato i problemi nei quali ancora noi oggi ci troviamo grazie 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 a tutti grazie a tutti